Per noi coltatori portare la candelora è una forma di devozione che manifestiamo nei confronti della santa. Ognuno di noi non basta indossare un sacco e dire sono devo desendare la tappa. Per noi dimostrarlo è portare in giro e tramandare anche ai nostri figli le tradizioni che ci hanno tramandato i nostri padri.